Ciao a tutti cari ascoltatori Meteo e ben ritrovati in questo nuovissimo video. Oggi siamo in questa piccola puntata dove andremo a parlare del maltempo che sta arrivando stavolta sul centro-sud Italia perché nelle prossime ore il tempo dovrà essere peggiorato notevolmente sulle regioni del centro-nord con un rifresco termico abbastanza sensibile e si sentiranno questi effetti anche sul sud Italia perché questo maltempo si sposterà proprio verso quest'ultime regioni. Ben ritrovati a tutti su questo canale, se siete interessati a previsioni meteo affidabili, dettagliate e precise per il vostro territorio per rimanere sempre aggiornati siete sul canale e posto YouTube perfetto. Basterà cliccare il tasto iscriviti qua in basso a destra per rimanere sempre aggiornato con nuovissimi video, lasciare un mi piace e attivare la campanella così da rimanere sempre informati con nuovissimi video e previsioni meteo come questa. Detto questo iniziamo subito a vedere la situazione nelle prossime ore, anzi eccoci qua proprio in questo momento andremo a vedere le precipitazioni che ci saranno di 6 ore in 6 ore. Questo siamo praticamente in questo esatto momento, più o meno, anzi scusate non siamo in questo esatto momento, più o meno questo esatto momento era questo, come si può vedere, scusate il gioco di parole, dove possiamo notare ancora del maltempo che è interessato soprattutto le aree del centro nord e del nord ovest con precipitazioni localmente abbondanti. Nelle prossime 6 ore, quindi a partire dalla nottata, il maltempo inizierà a diminuire sulle regioni del centro nord e inizieranno a vedersi le prime precipitazioni tra le coste africane e le coste siciliane, come si può vedere da queste immagini. Già in questo momento un po' di nuvolosità è presente sull'isola italiana e nelle prossime ore la situazione andrà a peggiorare, fino a raggiungere l'apice nel maltempo nella giornata di domani. Il maltempo, come appena detto, si farà vedere sulle regioni centrali e del sud Italia. La regione più coinvolta sarà la Sicilia, adesso andremo a fare anche un'analisi molto dettagliata. Per il resto, nella giornata di domani, stabilità che ci sarà durante tutto l'arco della giornata, soprattutto sulle regioni tirreniche. Come possiamo vedere su quelle adriatiche non ci saranno grandi precipitazioni o al massimo nella zona dello Ionio della Calabria. Per quanto riguarda invece le nostre due isole maggiori, partiamo dal parlare della Sardegna, con locali temporali e precipitazioni intense, soprattutto sulle aree interne e sulle aree costiere dell'area ovest. Attenzione a locali precipitazioni che potrebbero contenere anche qualche locale piccola grandinata, ovviamente di media e piccola dimensione, quindi non preoccupatevi, non sono ancora le grandinate quelle spaventose. Altra stabilità si farà vedere sulla regione del Lazio, senza avere però grandi precipitazioni, solamente nelle aree interne e appennini che potrebbero esserci accumuli all'incirca tra i 25 e i 30 mm. Per quanto riguarda invece la zona della Campania e della Basilicata e dell'Alta Calabria, come si può vedere qua, le precipitazioni saranno localmente più intensi, accumuli che comunque non dovrebbero essere molto abbondanti, anzi saranno esiguiti all'incirca tra i 3 e i 5 mm. Attenzione alle aree interne tra il sud della Campania e il nord della Basilicata, dove localmente potremmo raggiungere qua accumuli ovviamente fino addirittura anche a 40-50 mm. Passando invece alla Sicilia, la regione più coinvolta, dovremmo avere delle precipitazioni molto abbondanti, soprattutto sul nord della Sicilia. Come possiamo vedere le precipitazioni potrebbero essere molto intense, localmente anche dei forti temporali potrebbero andare a interessare quest'area, la punta della Sicilia, l'estrema area occidentale con accumuli che potrebbero raggiungere anche 50-70 mm. localmente, addirittura stando a questo, immagini come si può vedere potremmo raggiungere anche picchi ovviamente molto molto localizzati, quindi farlo con precisione è difficile, ma non escludiamo anche accumuli localmente oltre i 100 mm-125 mm. Quindi accumuli veramente molto molto abbondanti che potrebbero interessare la nostra isola. Per quanto riguarda invece sempre la Sicilia, spostandoci un po' più a sud, qua troviamo precipitazioni abbondanti. Anche qui troveremo localmente accumuli molto molto rilevanti, soprattutto sull'area interna, con qualche millimetro in meno, ma pur sempre accumuli, compresi tra i 40 e gli 80 mm. Quindi attenzione a queste aree, perché nella giornata di domani potrebbero esserci precipitazioni molto molto abbondanti. Insomma, un'area che rischia di essere molto colpita dal forte maltempo. Bene, detto questo, l'analisi è stata fatta, non vi viene altro che invitarvi ad iscrivervi al canale, lasciare un mi piace, attivare la campanella, prima di essere sempre aggiornati, con nuovissimi aggiornamenti medi.